La condizione salariale della categoria docente è un problema che ogni fine scadenza di contratto si ripropone. Questo fine contratto 2016-2018 vede con la legge di bilancio 2019 pochissime risorse per il nuovo contratto 19-21. Allora provocatoriamente mi viene da pensare perché non si va ad abolire il fondo del miglioramento dell'offerta formativa in cui ci sono 800 milioni di Euro e oltre, tenendo conto che in Italia ci sono nell'organico dell'autonomia 767 mila posti, verrebbe una quattordicesima per ogni singolo docente superiore ai 1000 Euro l'ordine, che già sarebbe qualcosa per ripagare la categoria di tutti i sacrifici quotidiani che va a fare.